Gentili telespettatori buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. La Camera dei Deputati ieri ha approvato con 464 voti favorevoli e due contrari con voti per parti separate i punti 12, 13, 14 e 17 ai quali il Governo aveva dato parere favorevole. L'Aula ha invece bocciato il resto della risoluzione che aveva il parere contrario del Governo. Si tratta in considerazione in sede di adozioni delle future misure di contenimento, le esigenze dei pazienti non Covid-19 e tra questi dei pazienti cronici e dei pazienti oncologici, assicurando nei loro riguardi la continuità assistenziale e la tutela del diritto alla salute anche attraverso l'attivazione dei servizi di telemedicina. È stato preso l'impegno a tutelare da qui fino al termine dell'emergenza i lavoratori fragili, le persone con disabilità fisica, sensoriale, relazionale o intellettiva, i rispettivi familiari, assicurando loro un adeguato sostegno economico e assistenziale anche a livello domiciliare, affinché la progressione della pandemia e l'applicazione delle misure di contenimento non determinano ulteriori regressioni, discriminazioni o isolamenti. Questa è una parte delle proposte del centrodestra approvate. Via libera anche a interventi mirati e appropriati alle diverse fragilità, al fine di non isolare ulteriormente bambini, ragazzi e persone con disabilità, in particolare intellettive, potenziando in modo adeguato l'assistenza sociosanitaria domiciliare, nell'ottica di prevenire e assistere in sicurezza, consentendo anche a chi svolge attività domiciliare di usufruire di test rapidi a tutela sia propria che dell'utenza. Poi il punto 17 riguarda la sicurezza delle scuole con l'applicazione dei termoscanner all'ingresso delle strutture scolastiche o delle classi per monitorare la temperatura di alunni e personale, con l'allestimento di tensostrutture da dedicare alle scuole per aumentare gli spazi disponibili e con interventi straordinari di edilizia scolastica per adeguare gli ambienti di apprendimento alle disposizioni di sicurezza. Questi che vi ho elencato sono i punti 12, 13, 14, 17 approvati dalla Camera dei Deputati, quasi all'unanimità. Voi sapete che il governo sta chiedendo adesso al centrodestra di collaborare dopo che per otto mesi il centrodestra è stato inascoltato totalmente e completamente. Naturalmente l'intento è evidente, per otto mesi se ne sono strafregati del centrodestra hanno avuto la presunzione di voler fare tutto da soli, adesso che cos'è che li spinge a cercare il centrodestra? È ovvio, ma l'opposizione Salvini, Meloni e Berlusconi l'hanno capito perfettamente, il governo sta cercando di tirar dentro il centrodestra nel precipizio, quindi il centrodestra che ha capito questo sta cercando di muoversi con i piedi di piombo per non far sì che l'opinione pubblica cada nel tranello zingarettiano di credere che la crisi sanitaria incontrollabile con tutti gli errori enormi fatti in questi mesi, la crisi economica, vedi il bonus monopattini, biciclette e la crisi poi sociale con le piazze dove per la prima volta nella storia d'Italia scende estrema destra e estrema sinistra uniti contro il governo, naturalmente questo esecutivo cerca di trascinare anche il centrodestra in questo vortice in modo che non se ne possa avvantaggiare coi voti e politicamente da questo disastro che era peraltro annunciato e così dà il via libera a questi quattro punti che vi ho elencato con le loro... il centrodestra chiede anche un sì ai voucher oltre a chiedere la tempestiva pubblicità dei verbali del comitato tecnico scientifico assicurando un dialogo costante dello stesso anche con i rappresentanti del mondo produttivo e lavorativo. Il centrodestra vorrebbe arrivare alla sospensione del decreto dignità e alla reintroduzione dei voucher per tutti i settori compresi i voucher familiari per dare alle imprese la possibilità di sostituire la forza lavoro assente perché contagiata dal virus o in quarantena e proseguire la propria operatività. Naturalmente su questo non è stato ascoltato il centrodestra, hanno preso quattro punti giusto per far capire c'è la volontà, noi approviamo le vostre proposte dopo che per otto mesi oltre 2000 proposte del centrodestra sono state assolutamente cestinate senza neanche essere ovviamente lette. Ma al Presidente del Consiglio che alla Camera si appella alla collaborazione tra tutte le forze politiche, Fratelli d'Italia risponde che nella risoluzione presentata da tutto il centrodestra che si voterà ci sono appunto i 20 punti per affrontare questa delicata fase. La leader di Fratelli d'Italia ha ricordato alcune richieste avanzate tra cui la garanzia dell'addebito diretto dei ristori sui conti correnti di tutti i lavoratori, anche autonomi, danneggiati dalle nuove limitazioni e l'assicurazione di un rimborso del 75% del fatturato mensile dichiarato nel 2019 per imprese con meno di 50 dipendenti. La Presidente di Fratelli d'Italia ha pertanto lanciato un appello. Se il richiamo alla collaborazione è reale lo vedremo come PD e 5 Stelle voteranno sulle proposte di buonsenso che il centrodestra ha messo nero su bianco. Per noi infatti l'unica collaborazione possibile avviene in Parlamento perché questo è il luogo nel quale si decidono le cose e non si sta solo per farsi riprendere dalle telecamere. Oggi dimostriamo ancora una volta di essere sempre presenti quando l'Italia ci chiama. Quindi il centrodestra c'è per l'Italia, il centrodestra collabora, vuole collaborare ma in Parlamento senza la presa in giro dei tavoli, delle cabine di regia perché lì è solo una presa in giro. Lì verrebbero instaurati ma sarebbero un cortocircuito perché sarebbe parlare e parlare a vuoto mentre il governo poi da solo decide i DPCM. Quindi la furbizia o la tentata furbizia di Conte è quella di cercare di trascinare dentro nelle decisioni finte il centrodestra in modo che l'opinione pubblica capisca che nelle decisioni c'è anche il centrodestra ma poi in realtà c'è solo lui che decide mentre gli altri sono in queste cabine di regia che è solo fumo, fumo e niente sostanza. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, Instagram e anche nell'altra pagina di YouTube Tele Italia Seconda Rete. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti. Grazie a tutti.